... ... Pochi minuti ancora a questa prima gara andiamo intanto a ringraziare per la presenza qui sul campo di gara tutta la giuria del settore luogo pinnato della Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacque, capitanato dal giudice capo della manifestazione, il signor Andrea Mazzonetto alla Federazione Italiana Cronometristi per il servizio manuale di cronometraggio della manifestazione all'assistenza al nucleo radioamatori, alla società organizzatrice il luogo pinnato Tervisium quando siamo a due minuti, due minuti dalla partenza cortesemente i concorrenti allineatevi alla forza che sovra sta la cordata galleggiante, ripeto due minuti cortesemente allontanatevi dalla barca di appoggio per questioni di sicurezza in partenza cortesemente al caso di tutti gli atleti si allontanino dalla forza attenzione, è un minuto alla partenza, la parola a Genese Stamper partita la manifestazione contattata Quello che ha tirato su, l'acqua, 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 l'acqua. L'acqua, l'acqua, l'acqua. L'acqua, l'acqua. L'acqua, l'acqua.